E' ora di andare. Voltare a destra. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra e poi voltare a sinistra. Voltare a destra. Voltare a destra. Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Sto ricalcolando il percorso. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Alla prossima. 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 Andare dritto. Alla prossima. Grazie a tutti. 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 Andare dritto. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Grazie a tutti. 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 Rispettare i limiti di velocità. Grazie a tutti. 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 Andare dritto. Grazie a tutti. Andare dritto. Grazie a tutti. 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 Andare dritto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a tutti. e tutti. Andare dritto. e a tutti. e a tutti. tenersi a tutti. tenersi a tutti. e poi continuare a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. uscire. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e... e tutti. e tutti. Attenzione. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e... 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 Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andare dritto. Grazie a tutti. 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 Voltare a destra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andare dritto. Grazie a tutti. 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 Voltare a destra. a tutti. Tenersi a tutti. e poi voltare a sinistra. Tenersi a tutti. qui a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.